Madrid dopo 14 anni l'avventura di Karim Benzema al Real Madrid Dance. Questo è stato comunicato dalla stessa club merengue con una nota ufficiale in cui rende omaggio all'attaccante francese, un quinto giocatore tutti i tempi per aver indossato diversi times la maglietta Blancos e il secondo marcatore di tutti i tempi del club che hanno organizzato una cerimonia saluto in programma martedì 6 giugno a Val de Bebas. Il capitolo Spagna è chiuso, per Benzema le porte dell'Arabia Saudita dovrebbero aprirsi. Benzema lascia il Real Madrid i motivi la volontà del Golden Ball incaricato di lasciare merengue del club dopo 14 anni non ha solo a che fare con ragioni economiche secondo come il Benzema avrebbe effettivamente messo in evidenza suo ciclo nel Real Madrid e vorrebbe provare una nuova avventura nella sua incredibile carriera. Il presidente del Blancos, Florentino Perez, che non poteva negare a un giocatore quasi 36 anni che ha dato tutto per davvero l'opportunità di mettersi alla prova con un nuovo campionato e una nuova esperienza vita, non ha battuto. Benzema, l'offerta dall'Arabia e mostruosa le figure la classe del 1987 partirà per la Super League of Saudita Arabia e sposerà il progetto Alitalad. Secondo quotidiano spagnolo AS, Benzema firmerà contratto due anni di 200 milioni di euro a cui viene aggiunto un bonus come ambasciatore del candidatura saudita ai mondiali del 2030. nonostante la sua destinazione, sembra essere anche Ed. Il player It dovrebbe firmare contratto con Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita che può inviarlo a una delle squadre locali classificate per la Champions League Asiatica.